Sono trascorsi quattro giorni dalla scomparsa di Bruno Lacaria, il commercialista di Brognaturo di cui non si hanno più notizie da mercoledì, quando il 52enne è uscito dalla sua abitazione per andare al lavoro. Una breve sosta in un bar, per poi essere immortalato dalle telecamere in compagnia del suo compare Danello, Giuseppe Zangari, commerciante di 46 anni del luogo che il giorno dopo la sparizione del suo amico ha ingerito un pesticida, costretto, ha detto agli inquirenti, da un uomo col volto travisato e sotto la minaccia di un'arma. Versione che dal letto dell'ospedale di Locri, dove si trova ancora ricoverato, dovrà confermare al magistrato che nelle prossime ore andrà ad interrogarlo. Zangari è l'ultima persona ad avere visto il commercialista, è l'unica persona che potrebbe fornire qualche elemento in più utile alle indagini. Indagini che vanno avanti senza sosta, da ieri nella piazza del paese è stata allestita una postazione di comando avanzato per coordinare le ricerche. Le speranze di trovare il commercialista ancora in vita dopo quattro giorni sono ridotte al lumicino. Il sindaco del paese, Giuseppe Barbara, cugino dello scomparso, si rivolge ai suoi concittadini. Se qualcuno ha visto o sentito qualcosa, parli. Il mio cugino merita anche una sepoltura, merita anche una sepoltura dignitosa, perché è una persona stimata, una persona molto impegnata a lavorare il tema parlando. È molto generosa e forse la sua generosità in questo caso, mi sbilancio, l'ha rovinata.